Con le gambe al Cosenza, con la testa già alla Salernitana, l'Avellino vince in scioltezza all'ultimo test precampionato e ora punta la barra a dritta direzione Arechi. Tavano, Dattilio e Castaldo confermano la prolificità dell'attacco e per la difesa bisogna aspettare banchi di prova più probanti. Magari già quello che porta le sembianze di Coda, Gabbionetta e Troianiello in una cornice da brividi con 20.000 granata a spingere la Salernitana e 2.000 bianco-verdi a scortare l'Avellino lungo il raccordo. Frattali e carico e partite del genere non si può aver paura di giocarle. Sicuramente sarà una partita molto sentita perché sappiamo quanto vale per questa piazza, questa partita, ma lo stesso vale per noi. Perché comunque i tifosi ci hanno fatto sentire l'importanza di questo match. Ci stiamo preparando al meglio e sicuramente posso garantire che, non so il risultato che otterremo, ma sicuramente giocheremo col coltello fra i denti. 2.000 tifosi, non uno di più. La raccomandazione del colonnello Lallo, responsabile dei rapporti istituzionali dell'Avellino, è chiara. Nessuno entrerà alla Rechi se non è munito di biglietto. I biglietti previsti sono solo 2.000 in curva nord a Salerno e potranno essere acquistati solo da coloro che sono fidelizzati, cioè sostanzialmente hanno la testa del tifoso. Il derby con la sua macchina organizzativa dentro e fuori dal campo è già iniziato. Capitolo mercato, tifosi bianco-verdi con il fiato sospeso per il futuro di Marcello Trotta. Il tecnico del Palermo Beppe Iachini ha confermato l'interesse del club rosa-nero sul giocatore e al di là delle dichiarazioni di facciata del presidente Taccone... Trotta resta, siamo tutti contenti. Se Zamparini viene con 3 milioni di euro e paga la clausola rescissoria, Trotta andrà via. Non resta che aspettare fino alle 23 di domani sera. Grazie a tutti.